A San Giovanni, con ospite d'eccezione, si parlerà di diritti civili. Monica Cirinna sarà alla Casa del Popolo giovedì prossimo per discutere del decreto che porta al suo nome. Presto in discussione alla Camera dopo l'approvazione in Senato. Appuntamento è per le 17 di giovedì 21 aprile. Giovedì 21 alle ore 17 presso i locali della Casa del Popolo di San Giovanni Valdarno, in via Alberti numero 7, sarà presente la senatrice Monica Cirinna, prima firmataria e relatrice del testo sulle unioni civili, già approvato al Senato e in attesa di approvazione alla Camera. È un momento importante, di conoscitivo e anche di riflessione e discussione su quelli che sono diritti che la società odierna sta chiedendo che vengano riconosciuti, ma soprattutto disciplinati. Quindi chiediamo a tutti di partecipare. Anche perché ora si passa alla Camera. Come ha detto il Presidente del Consiglio, vorrebbe che la tempistica sia molto veloce. Sì, i tempi devono essere necessariamente veloci per dare risposte, come ho detto, a una società che è in evoluzione sul piano della normativa dei diritti civili e quindi speriamo in un'approvazione celere, ma anche e soprattutto senza molti tagli.